Amoretti, edilizia in difficoltà con qualche segnale positivo, qualche spiraglio di luce in fondo al tunnel, ma da parte vostra c'è anche un appello, una necessità di tutela per le imprese e per tutelare i lavoratori? Assolutissimamente sì, spesso vediamo situazioni dove comunque nelle strutture di appalto si creano dei problemi con riserve, mancati i pagamenti e chi ne fa le spese sempre sono i lavoratori, perché poi alla fine questo mese non ci paga, perché non ci hanno pagato, perché abbiamo avuto un problema e poi alla fine il lavoratore se ne sta, subisce questa cosa qua in maniera proprio inerte, non può farci niente se non comunque fare un'avvertenza o comunque abbandonare spesso, e volentieri si ritrovano a abbandonare il lavoro. Questa tematica qua, che può essere su appalti privati come pubblici, abbiamo delle leggi, abbiamo un codice appalti, abbiamo comunque tutto quello che è già normato, ma negli ultimi anni tra le sigle sindacali del settore edile, quindi Filea, Filca e Feneal, abbiamo avuto modo comunque di studiare quello che è il sistema francese dei nostri cugini qua vicino, loro hanno dei sistemi di prevenzione sui cantieri proprio per la sicurezza che è fondamentale, ricordo che l'anno scorso ci sono state un migliaio di vittime, loro hanno questi enti che sono privati, come il servizio CPT che abbiamo alla scuola edile, vanno sui cantieri e danno le disposizioni, ma in maniera proprio autoritaria, alle imprese affinché rispettino la materia sicurezza, altre sì, viene sviluppato l'appalto, dove praticamente, lo dico un po' tecnicamente, ma è molto semplice, il cronoprogramma dei lavori viene fuso al computometrico, quindi le unità e i costi di quei materiali e vanno avanti, è stato avanzamento lavori periodico, molto più frequente del nostro, in modo che il cliente non aumenta un eventuale debito nei confronti dell'impresa qualora ci fosse il problema e viceversa l'impresa non ha un enorme credito da recuperare. Questa situazione qua con gli altri sindacati stiamo cercando di promuoverla, noi siamo anche nei tavoli dell'Inail, l'Inail che è molto presente, è disponibile, ci ha ascoltato e stiamo valutando per il prossimo anno anche di provare a introdurre qualcosa, perlomeno anche solo come feedback di impresa, perché oggi mi sento di dire che ci sono comunque ancora troppi improvvisati, ancora situazioni dove la parte del diritto del lavoratore, il credito piuttosto che la sicurezza sono ancora assopiti, nonostante le leggi sono vecchie come il cuco, perché solo l'81 è del 2008, hanno fatto qualche aggiornamento, ma 2008, queste situazioni qua alla fine non sono più sostenibili, secondo me a mio dire quello che potrebbe essere un elemento, uno strumento di aiuto per le Camere di Commercio piuttosto che per le istituzioni preposte ai controlli è introdurre una patente a punti, un qualcosa che chi vuole fare impresa ne risponde anche per come lavora, assolutamente.